Dottor Massimo Giupponi, direttore ATS Bergamo, qual è il contributo dell'Ordine di Biologi Lombardia nell'ambito di competenza di ATS? Una collaborazione fattiva da anni, collaboriamo con l'Ordine dei Biologi, mi fa piacere ringraziarli anche in questa circostanza per il lavoro che l'Ordine sta facendo con noi e anche per la capacità di avere coinvolto in questo lavoro tutti gli altri ordini. Stiamo lavorando con l'Ordine sul tema delicato della mancanza di figure professionali sanitarie, abbiamo sviluppato una serie di progetti, due direi le iniziative interessanti che è utile sottolineare in questo momento. La prima, quella di potenziare la presenza dei biologi all'interno dei nostri laboratori e all'interno dei laboratori delle aziende. Ma penso che ci sia una sfida importante per tutti i biologi e che l'Ordine sta assumendo come proprio obiettivo quello cioè di sviluppare la presenza dei biologi sul territorio per tutte quelle attività di prevenzione, la prevenzione rispetto alle criticità legate all'alimentazione, la prevenzione sanitaria in generale che penso la rete delle case di comunità possa contribuire a sviluppare in modo importante.